12 condanne, 2 assoluzioni e un imputato che dovrà essere nuovamente processato. Così è deciso la Corte d'Appello di Palermo, al termine di una Camera di Consiglio durata quasi 6 ore. La sentenza d'Appello nel processo denominato Marna, con imputati i presunti fiancheggiatori del latitante empedoclino Gerlandino Messina, ricalca a buona parte il verdetto di primo grado definito con il giudizio abbreviato. Il collaboratore di Giustizia, Maurizio Digati, era stato condannato a 3 anni e 4 mesi. 5 anni per Pasquale Di Salvo di Siculiana, 5 anni per Bruno Doria di Agrigento, 5 anni per Leggerlando Giuseppe Gucciardo di Siculiana, 5 anni per Francesco Gucciardo di Siculiana, 8 anni per l'omonimo Francesco Gucciardo di Real Monte, 5 anni per Calogero Iacono di Agrigento, 7 anni, 6 mesi e 10 giorni per Carmelo Infantino di Agrigento, 6 anni per Vincenzo Mangiapane di Cammarata, 7 anni e 8 mesi per Giovanni Putrone di Portempedocle e 4 anni e 4 mesi per Martino Di Novitello di Agrigento e infine 5 anni a Pasquale Vento di Agrigento. Per Francesco Gucciardo la pena è stata ridotta a 4 anni e 6 mesi, aumento di pena invece per l'omonimo di Siculiana, 6 anni per effetto di un aggravante relativo all'uso delle armi, riduzione a 5 anni e 4 mesi per Mangiapane. E' stata dichiarata nulla per difetto di motivazione la sentenza di primo grado nei confronti di Di Salvo, che dovrà essere sottoposto a un nuovo processo quindi. In primo grado erano stati assolti i tre imputati, Stefano Iacono di Real Monte, Vincenzo Iacono di Siculiana e Giuseppe Lana di Ribera. Quest'ultimo ieri è stato condannato a due anni di reclusione, per i due Iacono è stata invece confermata l'assoluzione. Grazie a tutti.